Noi italiani abbiamo un grosso problema e lo dobbiamo riconoscere che è quello di parlare dei soldi è uno dei tanti problemi dell'italiano, ma parlare dei soldi è culturalmente poco accettato ancora oggi, anche se, insomma, io stesso ci sto provando, tante persone lo stanno facendo ma è sempre complicato parlare di guadagni perché vi dico questo? Perché è uscito un giga leak di Twitch dove ci sono i guadagni degli influencer che sono sulla piattaforma attenzione, ci sono anche i nostri, credo, perché non ho visto ovviamente ma adesso vi racconto perché non ho visto perché è illegale scaricarsi quella roba là perché stai mantenendo dati sensibili che non ti appartengono sul tuo pc quindi, ok, attenzione detto questo, lo trovate praticamente da tutte le parti Twitter, Reddit, Facebook, credo anche su Instagram a questo punto quindi ci sono i vari versus eh, ma quello ho guadagnato di più quello ho guadagnato di meno e si parla di questi caspiti di soldi come se, giustamente, quel milione che hanno visto stampato lì quel mezzo milione, quei 200.000 euro siano uno a uno quello che un ragazzo si mette in tasca prima di tutto perché vi racconto questo sul mio canale? perché parlo di finanza, parlo di soldi e cavolo questa è la news del secolo perlomeno è la news il più grosso leak che c'è stato fino ad adesso nel mondo dei della finanza che in qualche modo intacca delle persone che vengono viste da milioni di utenti in tutto il mondo quindi è curioso è sicuramente curioso e ne parlo per mettere alcuni puntini su lei ovviamente domani riniziano i video dedicati alla finanza all'imprenditoria alle cripto e se volete iscrivetevi perché tanto questo è un cerchiamo di fare chiarezza su quello che è successo lunga storia molto breve la facciamo brevissima un hacker ha praticamente fatto il dump si chiama in gergo cioè ha copiato tutti i contenuti del codice sorgente di Twitch e i dati sensibili degli utenti tra questi dati ci sono anche password stream key quindi una chiave stream che tu puoi utilizzare per andare live sul canale quindi quella è importantissima quella chiave là ti permette di andare online sul canale di una persona tempo zero senza passare dal via praticamente quindi gli arrivi diretto immaginate quindi lo youtuber l'influencer il twitcher più grosso della piattaforma che mette visibile questa questa key per tutti se io venissi a conoscenza di questa key cercherei di usarla per scopi loschi se fosse un hacker in questo momento non ci sono ancora questi dati i dati che sono emersi sono parte del codice sorgente di Twitch quindi sono più di 120 giga circa 130 giga solo di file di testo quindi immaginate quanto possa essere gigante questo file con i nomi dei canali con tanto di guadagni ci sono di tutto il mondo quindi ci si può sbizzarrire ovviamente ve lo ricordo tenere questi dati sul pc è illegale eh io non li ho scaricati ma ovviamente me li sono trovati sbattuti dappertutto davanti facebook reddit twitch non si capisce niente ci stanno i versus questo guadagna di più questo guadagna di meno quindi tutta sta questa manfrina eh per dirvi che punto numero uno quei soldi che vedete sono solo una parte dei loro guadagni dei nostri guadagni e questa è una cosa ma di questi guadagni qui ci dovete mettere che sa dal 2019 al 2021 sì ma anche eh relativi solo ai i sub praticamente cioè a gran parte dei sub e credo parte della pubblicità quindi sono una parte ci mancano le donazioni ci mancano le partnership quindi avete visto qualcosa ora di quei guadagni che sono lordi va estrapolato un bel po' e poi ci sono anche altre cose che vi potrei qui raccontare come le varie i vari contratti che ci possono essere insomma è solo una parte quello che quello che vedete ma non per dire oh cazzo questi influencer guadagnano tanto no è solo per dire che sì sono persone influenti che su una piattaforma vengono seguiti da tante altre persone che pagano per vederli punto e si possono fare benissimi i conti facendo una banale moltiplicazione e un'addizione un sub costa x ti arriva in tasca y moltiplicalo per quanti sub ci sono e già hai un'idea di quello che può essere il patrimonio il guadagno di una persona che sta su twitch ma ancora una volta quello che mi dà più noia in assoluto è che questi cazzo di giganti che guadagnano milioni miliardi da loro piattaforme non mettano il focus sulla sicurezza perché io ho una startuppina che lavora con i dati sensibili che la prima cosa che si fa è stare attenti alla sicurezza però ovviamente devi stare attento anche a tutto il resto ma una piattaforma che c'ha vagonate di milioni e milioni di utenti che fa miliardi di utili dovrebbe porre un accento molto importante alla sicurezza ok non è una startuppina che non ce la fa economicamente a sopportare un team di sicurezza grande e potente stiamo parlando di gente con le palle sotto e ancora prima successo a facebook successo a sony con le carte di credito vi ricordate Cambridge Analytica per facebook e dall'altra parte le carte di credito rubate a forse quasi la totalità degli utenti sony ecco tutte queste robe succedono e noi non veniamo tanto tutelati in generale perché è stato lager mannaggia è arrivato lager di turno e ci ha fatto il ricatto magari al quale noi non ci siamo abbassati in questo caso credo sia stata proprio una ripicca da parte dellager ha detto io metto i dati online le ha messo su reddit e li metto perché non mi date credito gli ve la faccio per ripicca e questa è solo la prima parte ma la seconda parte che arriva c'ha le password c'ha le stream key c'ha tutta una serie di dati sensibili compresi magari via numero di telefono cioè pesante pesantissimo ovviamente ci staranno mettendo una pezza però io non vorrei che twitch facesse come gli altri alzasse le mani oh è successo no cavolo cioè qui deve intervenire qualcuno e deve fare chiarezza anche perché io nel mondo degli influencing non dico che li conosco tutti ma quasi e ho parlato con un po' di persone che sono state colpite anche molto da vicino e giustamente si trovano nella bufera perché in questo momento è nell'occhio del ciclone appena ci si sposta un attimino nelle prossime ore arriveranno servizi dalla tv da magari altri altri blog da giornali da tutti quindi succederà un casino io almeno credo che succeda un casino nelle prossime ore perché si stanno svegliando tutti quanti si influenzano quanto guadagnano è ovvio che se tu vai a ordinare quella lista per guadagni vedi solo l'un per cento e se sei un tipo che rosica cazzo se rosichi vedi che uno guadagna un milione a un certo punto dici madonna magari ad avercelo io quel milione e poi magari non riesci a gestire 10.000 lire in tasca parlare di soldi in Italia è oscuro ancora e vedere queste robe online decontestualizzate fa soltanto male bisogna contestualizzarle vuoi dire le cifre ok sto d'accordo parliamone cerchiamo di far capire quale sono le cifre perché Twitch paga paga con bonifico sono tutti tracciati non è che stiamo parlati facciamo il nero sono tutti soldi non tassati sono da tassà ti arriva al 50% di quella roba lì poi avranno altre entrate avremo altre entrate è ovvio te ne devi creare le entrate ne parliamo qui sul canale non dico settimanalmente ma quasi di quanto sia importante crearsi delle entrate anche ricorrenti differenti dalla propria entrata principale perché si devi avere devi far lavorare i soldi per te allargare ancora una volta il discorso è fondamentale ma io mi auguro che da tutta sta storia non arrivi a dire visto quello quanto guadagna visto quell'altro quanto guadagna visto quello quello c'ha più scritti ma guadagna di meno e viceversa siate furbi siate furbi se leggete quei dati lì invece di vederli con numeri studiateli cercate di capire il perché di quelle cifre perché ci sono persone che guadagnano così tanto e tu che stai guardando sto video no poniti questo di domanda cerca di capire cerca di studiare non fermatevi ai numeri perché fa sempre male ecco e in Italia se volessi dare un senso a questo video che non sia oh sono usciti i dati di twitch sono disponibili per tutti andatele a vedere fatevi due risate su quanto guadagna la gente no studiate studiate e capite come voi raggiungere quei risultati questo è fondamentale con l'augurio che twitch faccia ammenda grossa e pesante questa volta e che non escono le password di tutti e le stream key di tutti che lì potrebbe essere un problema dato che ripeto penso di esserci anche io in mezzo con Mario come quei due sul server però fate attenzione perché oggi succede a loro dopani chi lo sa pure l'imps potrebbe essere sotto attacco che si 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 Grazie.